ancora Hume, brani, pagina 350 e seguenti il primo brano, il T1, la critica del principio di causalità leggiamo insieme, diamo dunque uno sguardo a due di quegli oggetti che chiamiamo causa ed effetto vedo subito, riga 3, che non devo cercarle nessuno delle particolari qualità degli oggetti stiamo parlando naturalmente dell'idea di causalità perché qualunque di questi io scelga trovo oggetti che non la possiedono e tuttavia sono chiamate causa ed effetti ed in vero non esiste nulla nell'oggetto né esternamente né internamente che non si possa considerare o come causa o come effetto sebbene sia evidente che non c'è nessuna qualità che appartenga universalmente a tutte le cose e dia loro il diritto a questa denominazione cioè, è evidente, ce lo dice dopo che l'idea della causalità nasce da una relazione tra gli oggetti e qual è il motivo in realtà per cui diciamo che A è causa e B è l'effetto perché l'oggetto considerati come causa e effetto sono contigui, vicini nello spazio e vicini nel tempo ma allora il fondamento della causalità è che sono contigui capite che non c'è nessuna necessità contiguità dello spazio e priorità di tempo ogni volta che abbiamo visto priorità di tempo della causa sull'effetto cioè riga 15 tutte le volte abbiamo visto che A viene prima di B ma questa è solo una percezione tranquillamente smentibile avendo così scoperto, supposto che le due relazioni di contiguità e di successione sono essenziali a quella di causalità mi accorgo che sono costretto a fermarmi e non posso aggiungere altro pagina 351 considerati questi oggetti con la massima attenzione trovano che l'uno si avvicina all'altro è inutile torturarsi con ulteriori pensieri e riflessioni ragion per cui il fondamento, un'altra volta, del principio di causalità è l'abitudine l'abitudine che ci fa per ora le cose sono andate in maniera regolare continueranno ad andare in maniera regolare ci credo ma appunto non c'è nessuna necessità e allora andiamo all'assaggio sull'abitudine dove riprende questo concetto non vi è oggetto che implica l'esistenza di un altro se consideriamo questi oggetti in se stessi non guardiamo al di là delle idee che di essi ci formiamo un'altra volta è l'esperienza, la percezione e il fondamento della realtà se la percezione e il fondamento della realtà non c'è nessuna necessità nella realtà non c'è nessun principio necessario nella realtà men che meno il principio di causalità riga 4, noi ci ricordiamo di aver avuto frequenti esempi dell'esistenza di una specie di oggetti appunto la regolarità, d'accordo? pian piano siamo arrivati a scoprire una relazione fra causa e effetto la relazione di congiungimento costante questo congiungimento costante dice la regolarità l'uniformità, vedete qui in grassetto del corso della natura e quindi riteniamo riga 20 che i casi dei quali non abbiamo avuto nessuna esperienza debbono somigliare a quelli dei quali l'abbiamo avuta e il corso della natura continua uniformemente sempre lo stesso ma questa è una credenza il nostro precedente metodo dimostrativo ci convince che non vi possono essere argomenti dimostrativi sufficienti a provare che quei casi dei quali non abbiamo avuto nessuna esperienza somigliano a quelli dei quali l'abbiamo avuto è possibile che domani le cose vadano diversamente perché non c'è nessuna necessità riga 30 l'idea di causa ed effetto è derivata dall'esperienza e l'esperienza non è necessaria ma se allora come dice in grassetto qui l'abitudine è l'origine delle credenze umane allora queste credenze sono fallaci se dunque chiamo abitudine ciò che precede da un'antecedente ripetizione senza nessun nuovo ragionamento e inferenza possiamo stabilire come verità certa che ogni credenza ha in questa la sua unica origine è un colpo durissimo all'intero razionalismo andiamo alle pagine 344 e seguenti noi crediamo che esista il mondo esterno e che esiste l'io, la coscienza, il pensiero crediamo, avevo fatto l'esempio d'altra volta chiudo gli occhi credo che il mondo esterno continui a esistere credo nell'esistenza continua delle cose ma credo ripetiamo che se il fondamento della realtà è la percezione come faccio a dire che la realtà quando non la percepisco esiste ancora? da qui lo scetticismo di più di più di più pagina 345 la tabella l'identità dell'io il confronto con il razionalismo con Cartesio l'io, la coscienza, il pensiero è una sostanza pensante della realtà spirituale che resiste al dubbio iperbolico e del fondamento del sapere il punto in cui Cartesio trova la certezza che cos'è l'io inium? non è una sostanza unitaria perché le sostanze tutto è impressione abbiamo detto noi poi chiamiamo per abitudine questo gruppo di impressioni questo fascio di impressioni sostanze ma allora se il fondamento della realtà è la percezione l'io svanisce inium con la messa in parentesi delle impressioni quando non percepiamo cos'è l'io? non ci sarà nessun fondamento dunque della conoscenza nessuna certezza su cui fondare la realtà siamo nel puro scetticismo ci sono da fare queste tre domande presentare le impressioni di humo sul principio di causalità perché il rapporto tra causa e effetto non è deducibile a priori né inferibile a posteriori con certezza beh, perché non è deducibile a priori? eh, perché qual è il fondamento do un suggerimento il fondamento della realtà e a posteriori con certezza perché? perché è evidente che se noi se la realtà è che percebe di cui abbiamo esperienza è un fascio di impressioni se l'unica conoscenza è empirica l'esperienza cosa testimonia? testimonia a b a b ma non la necessità che se c'è a c'è b su cosa si fonda quindi la presunta necessità di tale relazione? sull'abitudine e la regolarità dei fenomeni abbiamo visto questa contiguità spazio-temporale 2. illustra le critiche avanzate da humo la credenza irriflessiva nell'esistenza continua delle cose e che la realtà esista indipendentemente dal fatto che la pensiamo come fai a dire questo l'abbiamo detto e poi riassumi il ragionamento con cui humo critica la credenza nell'unità e nell'identità dell'io queste cose le trovate chiarissimamente a pagina 345 ci torniamo torniamo sotto secondo humo noi non facciamo alcuna esperienza alcuna impressione del nostro io e come facciamo a dedurlo allora? come facciamo a ricavarlo? se tutto è impressione come facciamo a dire che esista qualcosa come il pensiero qualcosa come la coscienza? in realtà ciò che chiamiamo io è solo un fascio di percezioni che si susseguono nel tempo a cui vogliamo dare sostanzialità per trovare un senso un'unità del mondo ma anche qui non è possibile quindi velocissimamente queste tre domande un'unità del mondo